Buongiorno, allora apriamo la conferenza stampa del ministro degli esseri Paolo Gentiloni e del ministro degli affari esteri ed europei di Croazia, Miro Kovac. I ministri faranno una breve dichiarazione. Non credo che oggi l'Europa possa gestire la crisi molto difficile che abbiamo sul terreno dell'immigrazione con ciascun singolo Paese che sottomette ai propri cittadini decisioni per incrinare le decisioni comuni che sono prese a livello europeo. Questa dinamica, se diventa contagiosa e investe diversi Paesi, può mettere in discussione le basi stesse dell'Unione Europea. Quindi, al di là della legittimità, la mia valutazione politica è una valutazione politica allarmata. La Croazia non si diventa un hotspot dell'Unione Europea per migrante. Non abbiamo la capacità per questo. ma continuere a assicurare che i migranti possono passare a livello per alcuni problemi per i paesi dei paesi in l'Unione Europea che ha un grande numero di rifugiati. Quindi, noi seguiremo le polizioni dei nostri stati. Quindi, se i nostri amici amici continuano a portare i rifugiati, se i sloveni fanno lo stesso, allora faremo lo stesso. Quindi, continueremo a agire in un modo molto humaino. in un modo diverso, ma dobbiamo guardare attraverso cosa i nostri amici e i nostri amici in l'Unione Europea. in un modo diverso. In un modo diverso, la Croazia è un'unità. Noi abbiamo accettato che abbiamo bisogno di ridurre il numero di migranti e rifugiati che arrivano alla Unione Europea. Non possiamo poter imparare tutti i rifugiati e migranti che arrivano dalla Syriia e dal Mio Oriente. Abbiamo bisogno di assicurare che la Unione Europea resta stabile e solidale. Abbiamo bisogno di assicurare la necessità di avere coesione nella Unione Europea che è molto importante. Grazie. 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 Grazie.